Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Belen Rodriguez ha sollevato un polverone mediatico dopo essere stata assente per diversi giorni dai social. Ora ha svelato il motivo della sua sparizione, la showgirl ha fatto preoccupare i followers dopo essere sparita dai social. Nonostante le indiscrezioni che si sono sollevate sul web tutto taceva e questo ha alimentato ancora di più la curiosità dei fan. Belen Rodriguez è stata la centro del gossip nelle ultime settimane per via del suo riavvicinamento Stefano De Martino che i fan hanno desiderato a lungo. Negli ultimi giorni però si è notata la sua assenza totale dai social e questo ha suscitato clamore. Lei stessa ha messo a tacere le indiscrezioni che il gossip ha sollevato dopo la sua sparizione. Che cosa ha detto, Belen Rodriguez e la sparizione improvvisa? Belen Rodriguez è sicuramente uno dei volti televisivi più apprezzati e seguiti. Una donna sfumeggiante e piena di allegria che ha conquistato il cuore di grandi e piccini. Dopo un periodo difficile, dovuto alla separazione da Antonino Spinalbese con il quale ha avuto la splendida Luna Marie, ha ritrovato il sorriso. Il suo riavvicinamento all'ex marito Stefano De Martino ha rallegrato i fan che non vedevano l'ora di rivederli insieme. Dopo paparazzate varie foto rubate in vacanza si è notata un'improvvisa sparizione da parte della showgirl. Il gossip ha fatto una valanga di ipotesi tra cui quella di una nuova crisi con Stefano o anche di diatribe con Antonino per via della sua futura partecipazione al GF VIP. Ci ha pensato lei stessa a fornire la spiegazione e la spiegazione della sua sparizione improvvisa. Quello che ha confessato ha lasciato sgomenti i followers. Cosa è successo? Ecco la confessione, Belen Rodriguez ha confessato il motivo del suo allontanamento tanto discusso sul web. Nessuna delle voci e indiscrezioni comparse sul web corrispondono alla realtà dei fatti. La bellissima Argentina ha aggiornato i suoi fan tramite i social dal camerino di Tussi Kevales. Ha spiegato ai suoi ammiratori ho fatto un bel covid, per quello sono sparita. Però sono sana e salva. I fan sono rimasti senza parole nella prendere la notizia. Belen Rodriguez ha anche specificato, e, stato pesante, devo dire che me lo sono preso proprio brutto per quello sono scomparsa da Instagram per qualche giorno, non è vero niente di tutte le cavolate che hanno scritto, però, chi se ne frega. Dopodiché si è mostrata in tutta la sua bellezza e ha dimostrato così di essere guarita e in splendida forma. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.